Puoi trovare il kit ruota SNR utilizzato nel video tramite il link nella descrizione. Spingi il veicolo e tira il freno a mano. Per questa operazione dovrai sganciare l'albero di trasmissione dal mozzo ruota. Rimuovi il coperchio centrale del cerchione. Utilizzando una barra di forza e una brugola a 12 punte M24, svita la vite centrale dell'albero di trasmissione. Per accedere ai cuscinetti anteriori e sostituirli, è necessario sollevare la parte anteriore dell'auto e togliere le ruote. Allenta i bulloni delle ruote. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala su due cavalletti. Prima di iniziare, ti consigliamo di guardare il nostro tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché, puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso rimuovi l'impianto frenante anteriore. Per farlo, ti consigliamo di guardare il nostro tutorial Sostituzione dischi e pastiglie anteriori Golf 6. Adesso puoi vedere le filettature delle viti di fissaggio dei cuscinetti. Inizia spazzolandole e spruzzandole di sbloccante per facilitare le operazioni successive. Rimuovi la vite dell'albero di trasmissione. Svita i tre dadi di fissaggio del giunto sferico del braccio di sospensione utilizzando una chiave a cricchetto e una brugola da 16. Sgancia il braccio di sospensione dal giunto sferico. Adesso puoi rimuovere l'albero di trasmissione dal mozzo ruota. Usare un cricch per esercitare una leggera pressione sul giunto sferico del braccio di sospensione, in modo da avere una presa stabile del mozzo per le operazioni successive. Per aver più possibilità di rimuovere le viti di fissaggio dal cuscinetto senza romperle, inserisci una brugola a 12 punta M12 con il martello. Quindi allenta la prima vite con una barra di forza. Ripeti l'operazione sulle altre tre. Prenditi tutto il tempo necessario. È un processo lungo e noioso. Completa la rimozione con una chiave a cricchetto. Le viti possono comunque rompersi. Tuttavia, fin tanto che le teste delle viti vengono rimosse, sarà sufficiente per estrarre il cuscinetto. Una volta rimosse le quattro viti, spruzza dello sbloccante su entrambi i lati del cuscinetto per facilitarne la rimozione. È possibile utilizzare un martello per rimuoverlo in diversi modi. Questa operazione può richiedere molto tempo, poiché il pezzo viene sistematicamente bloccato nel suo alloggiamento. Ti consigliamo di utilizzare il martello a inerzia, che trovi nel link nella descrizione del video. In questo modo sarà possibile rimuovere il cuscinetto molto più facilmente. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati. E anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Puoi trovare il kit ruota SNR utilizzato nel video tramite il link nella descrizione. Prendi il nuovo cuscinetto. Prima di installare il nuovo cuscinetto, è necessario pulire perfettamente la sua sede. Inizia la pulizia con una spazzola di ottone per non danneggiare il sensore ABS. Puoi utilizzare anche la carta vetrata fine per pulire. Risciacqua con un detergente per freni e termina la pulizia con la carta assorbente. Inserisci il cuscinetto nel suo alloggiamento. Prendi le quattro viti fornite nel kit. Poi avvitele finché siano a contatto. La prima fase va eseguita trasversalmente, utilizzando una chiave dinamometrica. Termina con una seconda fase di serraggio aggiungendo un angolo di 90 gradi. Traccia un segno sulle viti per visualizzare meglio la corsa di serraggio. Rimuovi il cric. Inserisci l'albero a trasmissione nel mozzo ruota. Riposiziona il braccio di sospensione nel giunto sferico del braccio di sospensione. Avvita i tre dadi di fissaggio del braccio di sospensione sul giunto sferico e completa il serraggio con una chiave dinamometrica. Prendi la nuova vite dell'albero di trasmissione fornita nel kit. Poi avvitala finché sia a contatto. Rimonta l'impianto frenante. Per farlo ti consigliamo di guardare il nostro tutorial Sostituzione dischi e pastiglie anteriori Golf 6. Adesso puoi ripetere la tecnica di bloccaggio dell'albero di trasmissione ed eseguire la prima fase di serraggio della vite dell'albero di trasmissione con la ruota sospesa con una chiave dinamometrica. Puoi rimontare le ruote e far scendere l'auto. Una volta l'auto a terra, è possibile eseguire la seconda fase di serraggio della vite dell'albero di trasmissione aggiungendo un serraggio angolare a 180 gradi. Rimetti a posto il coperchio centrale del cerchione. Operazione conclusa Ciao! Sono Nono di Youstool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuici al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo! Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo! Ciao! Grazie! Ciao!